Dove sono? Die, questa gente Qui sono? Ah, ora ricordo La explosione E ora, poi, vuoto I miei genitori I miei fratelli Che fine hanno fatto? Mi casa La casa della gente È tutto di me È tutto di trudo No! Sì, sì, sì. Sì, mi puoi dire dove siamo? POMPEI POMPEI Ma che anno è? 2014 2014 Io vengo dal 79 dopo Cristo Lei è un'attrice No, te lo giuro Te lo giuro su Venere Non sono un'attrice, è verità Che che è successo qua? Che è successo? Non è successo niente oggi Ma in Ucraina In Ucraina c'è stata la guerra Putin, Russia, un bordello mai visto No, qua, qua è una guerra Qua è stato tutto distrutto E ci fu un'esplosione E ci fu un'esplosione Velo Velo, velo Il Vesuvio Vediamo L'ultimo che ricordo Una luce di fuoco nel cielo Chi è questo? Sono turisti Sono turisti Vengono a vedere il mio templo Il mio paese Il mio popolo E tutto È tutto Eh sì, perché è molto culturale Attrae molte persone Da tutto il mondo Bello, qua Siamo ancora in provincia romana No, siamo provincia di Napoli Neapolis? Sì sì Si amava così una volta Sì 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 No, non, 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 non No No Anir Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.